Un grave incidente sul lavoro è accaduto a Sansepolcro. Ci troviamo nella zona industriale della cittadina Biturgenze e l'incidente è accaduto nel cantiere che vedete alle mie spalle. Erano in corso i lavori per la costruzione del secondo ponte sul Tevere. L'incidente è accaduto intorno alle 8.30 del mattino. All'interno del cantiere si sta lavorando per la costruzione del secondo ponte sul Tevere e anche per la viabilità che dovrà collegare meglio la zona industriale di Sansepolcro con il centro della cittadina Biturgenze. Vittima dell'incidente, un giovane operaio che è accaduto da una struttura da un'altezza di circa 5 metri. Cadendo a terra ha riportato vari traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa ed è stato allertato il Pegaso. È arrivato anche il Pils della Asl, del Casentino e i Vigi del Fuoco. L'operaio, 35 anni originario di Caserta, è stato trasportato in codice rosso con il Pegaso all'ospedale Fiorentino di Careggi.